I Merovingi e i Carolingi, due grandi dinastie nell'Europa medievale Le dinastie dei Merovingi e dei Carolingi sono due delle più importanti e influenti casate reali nell'Europa medievale, governarono rispettivamente nel periodo post-romano e durante il periodo carolingio, contribuendo in modo significativo alla formazione delle basi culturali, politiche ed economiche dell'Europa occidentale. Questo articolo esplorerà le origini, le caratteristiche distintive e le principali realizzazioni di entrambe le dinastie. I Merovingi Origini Ascesa La dinastia dei Merovingi ebbe inizio nel V secolo con il leggendario re Meroveo, da cui deriva il nome. I Merovingi governarono la Francia settentrionale, noto anche come Austrasia, dal vuo all'VIII secolo. Il loro regno fu caratterizzato da una serie di redeboli e dalla crescente influenza di figure come i maestri di palazzo, che alla fine portarono alla loro decadenza. Potere e declino Uno dei re più noti dei Merovingi fu Clodoveo I, che convertì al cristianesimo nel VI secolo e fondò la dinastia carolingia attraverso suo nipote, il futuro Carlo Martello. Tuttavia, il potere effettivo dei Merovingi diminuì nel tempo, e alla fine del VII secolo, il maestro di palazzo Pipino il Breve depose l'ultimo re Merovingio, Childerico III, inaugurando così l'era carolingia. I carolingi Carlo Martello e Pipino il Breve I carolingi presero il controllo effettivo del regno franco sotto Carlo Martello, che sconfisse i musulmani nella famosa battaglia di Tours nel 732. Suo figlio, Pipino il Breve, continuò questa tradizione militare, consolidando ulteriormente il potere della dinastia. Pipino depose l'ultimo re Merovingio nel 751 e fu confermato re dai rappresentanti della Chiesa. Carlo Magno e l'impero carolingio Il culmine del potere carolingio fu raggiunto con Carlo Magno, figlio di Pipino il Breve. Carlo Magno, noto anche come Carlo I, fu incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nell'Ottocento da Papa Leone III a Roma. Il suo impero, noto come l'impero carolingio, copriva gran parte dell'Europa occidentale e centrale. Eredità e declino Dopo la morte di Carlo Magno, l'impero carolingio fu diviso tra i suoi figli secondo il Trattato di Verdun nell'843. Questa divisione portò a un progressivo indebolimento dell'unità imperiale. Le lotte per il potere interne e le pressioni esterne, come le incursioni vichinghe e saracene, contribuirono al declino della dinastia carolingia. Conclusioni Le dinastie dei Merovingi e dei carolingi svolsero ruoli chiave nella storia dell'Europa medievale. I Merovingi furono i precursori dei carolingi, mentre questi ultimi raggiunsero l'apice del potere con Carlo Magno e l'impero carolingio. La loro eredità influenzò in modo duraturo la storia politica, sociale e culturale dell'Europa, contribuendo alla formazione delle basi della civiltà occidentale. Nonostante il declino delle dinastie stesse, il loro impatto rimane evidente nei secoli successivi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.